Ciao a tutti, in questo video volevo farvi vedere delle alternative davvero molto carine da creare con i peletti della Velvet Manicure. Io ho i peletti Bordeaux che ho preso sul sito Borde Press Store. Per vedere le altre cose che ho preso vi lascerò il video qui da qualche parte. Cominciamo subito. Ho già applicato una base trasparente su tutte le unghie e poi uno smalto Bordeaux, perché appunto i miei peletti sono Bordeaux. Voi sceggete un colore che sia simile al colore dei vostri peletti. Mi sembra brutto chiamarli peletti ma non so come chiamarli, polverina? Vabbè, dopo che lo smalto è completamente asciutto potete scegliere se utilizzare appunto lo stesso smalto oppure uno smalto trasparente. Io nel mio caso userò appunto uno trasparente. Comincio utilizzando il dotter sul mio dito medio per creare dei puntini. Cerco di crearli tutti della stessa misura e poi immergo il dito nella mia polverina. Presso bene i peletti sopra e con l'aiuto di un pennello più grande tolgo gli eccessi. Mettete sotto un foglio o un recipiente per poi poter raccogliere gli eccessi che cadono e riutilizzarli. Con lo stesso procedimento creo sul mio mignoro un french e poi applico i peletti. Sul medio creo tutta l'unghia con il velvet. Sull'indice faccio una mon manicure e sul pollice creo delle strisce. Sulle unghie dove il velvet raggiunge la fine dell'unghia potete scegliere se applicare un po' di top coat giusto sulla punta per non far togliere subito i peletti. Io nel mio caso lascerò così senza top coat. E questo è il risultato finale. Davvero molto semplice e carino e voi potete sbizzarrirvi con la fantasia creando anche delle forme o altre decorazioni. Spero vi sia utile e al prossimo video. Ciao!